Ciao a tutti da Saridor e bentornati su American Track Simulator, oggi episodio molto molto particolare, oggi la nostra gallena, farà la conoscenza di anatra di gomma e si lui non sapeva che io stavo reccando, ne sono successe delle belle, buona visione, arrivo a... Oh questo è l'altro profilo, quello della gallena, ciao bello mi nome è galliena, galliena cornicova, non vedo l'ora di conoscere i tuoi pistoni, beh può andare, può andare, c'è la signorina gallina che ti guarda con interesse, secondo me può nascerci del tenero, che devo fare, scappo, 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 ciao, devo andare, ciao, tu non scappa, tu vieni qua, no no, ah che bello, è solo ora che non ho il navigatore su questo cabello, e vai avanti, ti va che mi scappa da ridere, ottimo, perfetto, tu vieni, tu segui, galliena, che ti porta al paradiso, non sono mai stato così lì, gioco al codice della strada, con tutte queste frecce, sapilo, che onore, minchia, ma non c'è neanche il navigatore, quello, cos'è, F5, ah no, vabbè, quello di C, cosa mia che non lo tengo mai aperto, perché, boh, è un realismo, minchia, al professionista, al professorone abbiamo, odio i lag, ti sei stampato, ahahah, no, no, sono a pendone nella cosina, ottimo, oh, vabbè, sei dietro, se no, ti aspetto dalla stazione di pesa, eh, no, vai pure alla stazione di pesa, che qua mi ci guardrà un po' a uccompero, minchia, se ci avessi la telecamera libera, vengo a vedere cosa cazzo hai fatto, ahahahahah, ahahah, ti faresti non dire così che mi faccio il pezzo contromano vorrei sapere cosa cazzo ha combinato ovviamente la spia delle fighe è un 3 assi la motrice il problema è che è un 6x2 non è un 6x4 quindi non riesco neanche ad andare indietro perfetto vuoi una spinta? appunto se dietro non posso andare solo avanti dovrò tentare porca troia cosa cazzo hai fatto? mamma mia sono 5 minuti che sto aspettando sono 5 minuti che lo aspetto oh se vuoi me lo rimorchio qua vengo a darti una mano cominciamo bene cominciamo benissimo come cazzo è? fa un po' vedere forse in discesa ce la fa forse perché slitta anche in discesa no io devo andare a vedere cosa cazzo ha combinato quell'altro è ora di andare oh ce l'ho fatta stavo facendo inversione senza rimorchio per venire a vedere cosa cazzo stavi facendo vabbè vai tranquillo te l'ho mandato su whatsapp perfetto e lui si deve fermare di nuovo ma si all'avventura che non so quante marce abbia sto cambio perfetto il viaggetto con con anatro di gomma anzi diciamo la verità con verduccia perché lui è Verduccia di Ark sì lo chiamo così nella vita vera Porca Eva, mi son dimenticato di fare gasolio! Non è possibile, non ci credo! Vabbè alla peggio ti spingo dai! Eh, signorina gallina, piace spinta di dietro! Ecco la laggata! Ti sei impennato! Non oso immaginare in terza persona cosa si finisce! E' stato fantastico guarda sto cornuto! Coraggio, su, 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 su... Vabbè basta adesso, su! Ma guarda, lo sapevo! Ma non ci credo! Quando ce la fai ad arrivare? Passa pure eh! Quando e se... Vabbè mi hai tagliato la strada, questi hanno frenato, io stavo per mettermi e... Lo so, l'ho fatto apposta! E io te l'ho detto, devi creare le situazioni divertenti! Eccolo che arriva, dai! Vanni! Sì, ci sarebbe stato l'uscita! Sì, ci sarebbe stato l'uscita! E dai di là! Non ti prego, dimmi cosa è successo perché io ero fermo! Oddio, ti ho visto di traverso e poi sei scomparso! Spettacolo! Mamma mia! Spettacolo! Devono... Va... Ecco adesso sei sparito! Dove cazzo vai? Non ti dico quello che sta succedendo! Ahahahahahah... Ahahahahah... Ma non lo so, vorrei troppo a vederlo perché... Ma no, lo so, vorrei troppo a vederlo perché... Non bello sto pregando di non ritrovarmi sul dietro! Ahahahahahaaaa! ahahahahah ahahahahah corona hoato da 100% di danno del semi-rimore Si è finito nella fascia dall'altra parte Mamma mia Sta partita che andrà negli annali Occhio alla curva Con l'accuso vale doppio Aiuto Rimorchio di traverse vai Io sto guardando cosa fai Va bene va bene Non c'è problema dai Dove cazzo glielo fa mettere Io mi allontano perché si Io mi sono allontanato un attimo Non certo per diffidenza Sia chiaro Dai ce le fai Dai che ce l'hai fatta Bravissimo Bravo No no aspetta non ho capito cosa hai detto Come qualifica non so In alto che di solito dice ottimo lavoro Qui lascio giù La ticitura è spericolato Soldi meno 15.000 dollari Esperienza meno 1.146 Praticamente 0 dollari entero esperienze Ottimo ottimo Però io rimango imbattuto col 100% di tutto Nel viaggio dell'altra volta E come al solito Non ci sei Persino il gioco ti odia Oddio È fantastico Stanno succedendo delle cose bruttissime Dietro di me T'ho visto volare Guarda se ti può consolare Un camion giallo Mi ha appena comparso qua davanti Ho ancora il rimorchio un twist Oh avevi il rimorchio un twist Ti dico solo quello Non ha neanche la gas Buono cosa ti fa Continui o stop Per dove c'è Ti sei tolto la voglia stasera Eh beh sì Con la signorina galina Tutti si tolgono le voglie Dai Eh beh Va buon dai Ci vediamo Quando è che sei su? Vabbè dai Buonanotte Buonanotte verducchio Buonanotte Ci vediamo Ciao Erminio Ciao ciao E ok Siamo giunti al termine Fermiamoci qua Usciranno 100.000 episodi Lo so già Abbiamo registrato L'infinito e oltre Ok Se il video vi è piaciuto Mettete like Condividete Fate un commento In favore del povero Verduccio Che gli ha nessun successo Di tutti i colori E noi Con la signorina galena Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao 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 ciao